è l'ora della pappa queste sono le altre che mangiano di qua guardate come mangiano di gusto e mangiano anche il caprone solo che in autunno così ha un odore che è insopportabile il cagnone fuori e loro continuano il suo posto si spingono uno con l'altro per mangiare guardate questa cara che bella ciao ecco mi ho idea si deve infilare dentro e la mangiano di gusto non c'è voglia di alzarsi un po' una pigrona in carri 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 in carri